Bar Caffetteria da Lorenzo e Mary. Nuova gestione. Centro servizi Sisal per ricariche e pagamenti. A Modica, in via Sacro Cuore 64, vicino alla piscina comunale. Troverai anche i principali eventi sportivi grazie a Sky. Caffetteria, bar, aperitivi. Inaugurazione domenica 31 marzo. Nuova gestione. Bar Caffetteria da Lorenzo e Mary.